buongiorno sono marco a storia di bg log ed oggi ho il piacere di presentarvi un carrello realizzato per un'importante ricambistica del settore automotive soluzione realizzata con profilo tubolare rivestito in abs bianco made in italy giunti neri e ruote pivotanti di cui due dotate di sistema frenante crendono questo carrello ancora più agevole da movimentare lungo le linee logistiche carrello dotato di un piano di lavoro in mdf in modo tale da consentire all'operatore di depositare i contenitori su di esso inoltre attorno a questa soluzione abbiamo inserito una rete metallica in modo tale da prevenire la caduta dei componenti durante la movimentazione ed evitare di danneggiare le parti una volta che l'operatore arriverà col carrello in prossimità della postazione da lavoro potrà facilmente aprire la rete metallica e prelevare i componenti e le parti in modo più ergonomico e sicuro oltre al profilo tubolare rivestito in abs bianco abbiamo applicato anche un profilo tubolare quadro in modo tale da sostenere carichi ancora più pesanti infine questo carrello è anche forcolabile quindi potete trasportarlo anche se carico all'interno del vostro magazzino o del vostro stabilimento produttivo attraverso l'utilizzo del muletto quindi se state cercando dei carrelli o delle soluzioni modulari e personalizzate sulla base delle vostre specifiche necessità di intralogistica visita il nostro sito www.bglog.it e contattaci il nostro ufficio tecnico realizzerà un carrello ad hoc sulla base dei vostri processi dei vostri materiali e sicuri ed ergonomici per i vostri operatori bigilog l'inmanufacturing solution Ciao, Sean.